Ciao, sono Tiziana, ho appena terminato il corso per diventare insegnanti yoga con ARIOM. Da dove iniziare? Forse proprio dalla fine, da quella sensazione che si prova quando arrivi alla meta, perché ti senti svuotato e l'unico desiderio che hai è che il viaggio possa non finire mai. Sono stati mesi incredibili, mesi pieni di emozioni, mesi di crescita, in cui ho raggiunto una maggiore consapevolezza sia del mio corpo che della mia mente. Il corpo insegnanti è davvero molto preparato, sono super disponibili, trasmettono un grande amore, una grande passione per questa disciplina. Tutto è stato reso ancora più magico dalle compagne di corso, con le quali si è creato un legame di fratellanza e di unione. Che dire, è solo la prima tappa di questo viaggio che è iniziato a novembre dello scorso anno, un viaggio che proseguirà perché ho già individuato altri corsi da seguire che mi piacerebbe fare con Ariom. Ci tenevo a ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo percorso di crescita. Dagli insegnanti, Alice, Giacomo, Simona e Susan, per arrivare ai quattro giorni a Cascino a Bellaria trascorsi con Marco e Emanuela, ma un ringraziamento va sicuramente anche a chi sta dietro le quinte, che rende più semplice tutta la parte burocratica e ha risposto a tutte le domande e alle perplessità più tecniche che avevamo. Sto parlando di Ludovica e Michela. Grazie a tutti, è stato un viaggio meraviglioso che non dimenticherò mai.